Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Allora ci stiamo avvicinando pericolosissimamente a quello che è l'ultimo video del 2019, anzi credo che sia questo l'ultimo video del 2019 perché se non erro il 30 dicembre, l'ultimo lunedì dell'anno, ma dubito che il 30 dicembre voi starete su YouTube a guardare il video e quindi credo che ci rivedremo direttamente ad anno nuovo. Sono stato un sacco di tempo a pensare a questo video, lo faccio, lo faccio, lo faccio, lo faccio, lo faccio, lo faccio, alla fine ho deciso di farlo. Quindi se non sapete cosa regalarvi per Natale o cosa regalare per Natale, questo video molto probabilmente farà per voi. Se invece volete salvaguardare le vostre finanze direi che potete lasciare un bellissimo mi piace, un commento giusto per augurarci Buon Natale e chiudere direttamente perché questo video sicuramente sarà ad altissimo contenuto di scimmie. Non perdiamo tempo e iniziamo. Benvenuti in questo nuovo video. Allora, questa non sarà assolutamente una classifica, ma alla fine vi dirò qual è il mio gadget preferito di tutto il 2019, ma anche qual è il peggiore e perché. Quindi se qualcuno di voi fosse intenzionato all'acquisto di questa cosa magari si faccia le proprie valutazioni. Inoltre questo è il video ideale anche per condividere un po' di codici sconto visto che siamo in periodo di Natale. Iniziamo subito da lui. Non avete mai sentito parlare di questo gadget sul canale, ma chi mi segue su Instagram l'avrà visto in qualche stories qua e là in giro per il mondo. Lui è il cavalletto portatile di Sirui. Questo cavalletto mi è stato dato da Universo Foto, che è un portale online, vi lascio il link sotto in descrizione, dove potete acquistare un sacco di cose inerenti al mondo, ovviamente, dalla fotografia. E potete utilizzare anche il mio codice di sconto personale, che è Just Rob, che vi dà diritto a sconti su un sacco di accessori che trovate in questo portale, anche su macchine fotografiche. Quindi utilizzatelo perché veramente potete risparmiare a costo zero. Mi hanno fatto conoscere questa azienda Sirui, di cui non mi ero mai fornito onestamente, e all'inizio era un po' titubante. Poi ho preso questo cavalletto e ho iniziato a portarmelo un po' in giro. Ce l'ho più o meno dall'inizio dell'anno. Oltre alle classiche caratteristiche che ha ogni cavalletto portatile, diciamo, quindi la possibilità di loccarlo facilmente, le dimensioni compatte, la possibilità di allungarsi in due diverse sezioni. Quindi la sezione di base è la sezione più lunga. Ma ho iniziato anche a capire, proprio per via della passione dei video che stava iniziando un po' a emergere, diciamo così. Infatti, grazie a questo cavalletto, muovendo la testa verso il basso, è possibile addirittura vloggare in tre diverse distanze, utilizzando la stessa lente, perché possiamo accorciare o aumentare la parte superiore, possiamo chiudere o aprire quella che è la parte bassa, dove il cavalletto sostanzialmente appoggia per terra, e questo è veramente super comodo. Ma c'è un'altra cosa che non ho trovato in nessun altro tipo di cavalletto, e è questa. Utilizzando la parte della base, quindi dove c'è il treppiede, che normalmente sta per terra, me lo sono messo qua sul petto, e ho sbloccato la testa. Questo fa sì che praticamente possiamo muovere il braccio che tiene la macchina fotografica, avendo il cavalletto a contrasto con il nostro petto, e questo fa sì che le riprese siano veramente molto più stabili. Inoltre, visto che c'è questa parte allungabile, voi potete regolare anche la distanza della macchina fotografica dal vostro petto, in base a quanto è lungo il vostro braccio. Questa, onestamente, è stata una figata pazzesca, che l'ho scoperta proprio utilizzando questo strumento nel tempo. E questa è una cosa che mi piace un sacco, perché nel momento in cui noi utilizziamo qualcosa, non è necessariamente la marca migliore o la marca più nota che può garantirci o darci quello di cui abbiamo bisogno. Questa di Sirui, devo essere sincero, è stata veramente una grandissima scoperta. ringrazio Universo Foto per avermi fatto conoscere questo brand e per avermi dato anche la possibilità di poterlo utilizzare. Vi ricordo, come vi ho già detto all'inizio, che sul loro sito avete sconti su un sacco di differenti merci, ve lo lascio sotto in descrizione, e date un occhio a questo cavalletto e anche a tutto quello che loro hanno in magazzino. Altro strumento fondamentale del 2019 sono loro. Ormai ne ho veramente un secchio, come si dice dalle nostre parti, e non posso più fare a meno di queste hard disk. Ultimamente è uscita anche la versione Pro, che è ancora più veloce, ma non ho fatto una reale comparativa, quindi non so dirvi se è meglio passare alla Pro o se rimanere su questa. Li uso per viaggiare, li uso per archiviare servizi, li uso per archiviare video, anche i 4 app esattamente come quello che sto facendo ora, lavorandoci direttamente da Final Cut. Inoltre sono super pratici, sono resistenti agli urti, e questo fa sì che mi diano un certo tipo di sicurezza mentre sono in giro per il mondo e sto viaggiando. Ho avuto modo di testare anche loro, che sono sempre hard disk, SSD, come vedete in termini di dimensioni e ingombro sono esattamente uguali ai sandisk, però il My Password SSD di Western Digital onestamente mi piace un po' meno. Non ho mai avuto problemi, devo essere sincero, però probabilmente anche il materiale di cui è fatto che è un po' di plastichina dura, mentre l'altro è più gommoso, mi dà anche un po' come l'idea che possa meglio resistere agli urti, ma magari è solo una mia impressione, non c'è niente di realmente tecnico dietro, però fra loro due preferisco di gran lunga questo. e monitoratelo perché spesso su questi aggeggini qua ci sono promozioni molto interessanti. Di pari passo all'archiviazione non può che esserci lui, .photon.raw. Ne ho parlato in un video piuttosto recentemente, questo programma vi dà la possibilità di ridurre il peso dei vostri RAW, creando un'alternativa che è un file .p.dng e come potete vedere nel video che vi linko qua sopra, l'ho già affrontato sul canale e ho fatto anche le varie comparative. Potete utilizzare per .photon.raw il mio codice di sconto, ve lo lascio sotto, ma ricordatevi che potete testare questo programma gratuitamente, perché se non erro avete a disposizione 30 scatti da ridurre, così da poter fare anche tutti i vostri test. E torneremo presto a parlare di .photon.raw, anche perché stanno arrivando feature veramente interessanti e sarà anche l'occasione giusta molto probabilmente per parlare di workflow, introducendo questo step di riduzione file all'interno appunto del workflow di lavoro. Altra cosa che ho acquistato sono l'oro. È un acquisto piuttosto recente onestamente, perché ultimamente ho parlato spesso insieme a Fabio Porta, che è The Geek Photographer, vi lascio qua sul suo canale YouTube, e abbiamo parlato un po' di qualità video, colorimetria, eccetera eccetera. Questo è il motivo per cui dal video scorso ho switchato tutto in 4K e anche perché ho iniziato a utilizzare l'oro. Questi sono semplicemente dei pannellini, vi lascio il link sotto su Amazon, che sono piuttosto economici, che vi danno la possibilità ovviamente di prendere quello che è il bilanciamento del bianco. Quindi sostanzialmente li uso facendo lo schema di luci, posizionandole qua sul divano e andandomi a prendere il bilanciamento del bianco, di modo che posso avere poi una colorimetria migliore. Sono veramente pratici, sono di plastica rigida e fortunatamente sono anche molto economici. Per chi di voi fa video è un piccolo strumentino che secondo me non dovrebbe mai mancare. Oltre loro potete utilizzare anche il color checker. Io ho la versione passport, come vedete, quindi sostanzialmente lo potete aprire e qua avete tutta la scala dei colori e questi li potete utilizzare ovviamente nel momento in cui andate a montare i video per poter capire quando i colori sono giusti. Ho iniziato a utilizzare questo strumentino anche per creare i miei preset personali per Lightroom e Camera Raw. Se non sapete di cosa sto parlando li trovate qua su in questo video che vi linko qua sopra. È uno strumentino molto comodo, l'unico difetto che posso imputare a questo strumento è un po' il prezzo perché ovviamente è comodo e funzionale ma ovviamente questo ha un costo. Non poteva mancare lei. Se non sapete di cosa sto parlando vi siete persi il video in cui vi racconto di lei. Lo trovate sempre qua sopra e questa lucina mi ha cambiato così tante volte la vita che ovviamente voi non potete immaginarlo. L'avete vista tante volte qua sul canale specie quando ero fuori in giro perché l'ho utilizzata per illuminare i miei video su YouTube. Fermi tutti, nota nerd finale! L'illuminazione di questo video è stata fatta tutta con lei la mitica lucina di cui vi ho parlato in uno dei video precedenti e che mi salva veramente sempre da tutte le situazioni possibili. Quindi sapete che questo piccolo gioiellino serve non solo per i video tradizionali per le fotografie, per le storie, per i video col cellulare e quant'altro ma serve anche proprio per fare illuminazioni di base per video. Quindi non posso non raccomandarvi questo gadget che è economico, pratico e soprattutto funziona bene. E da una piccola luce passiamo a una grande luce ve la ricordate? Se non sapete che cosa c'è qua dentro vuol dire che vi siete persi anche questo video ve lo elenco qua sopra. Ovviamente non parlerò di questa lampada ora perché c'è appunto un video che vi è dedicato ve l'ho già detto ma ricordatevi anche che è uscita la versione numero 3 di questa lampada che ha qualche piccola differenza e magari potrebbe essere migliore di quella che ho io vi linko sia questa sotto in descrizione sia la nuova se la trovo altrimenti cercatela direttamente voi su Amazon o su qualche altro sito ma questa luce o la sorellina minore o la sorellina maggiore sono assolutamente da acquistare comode, tantissimo comode per scattare e fare video. Siccome abbiamo parlato di video non posso non nominare lui lui è il gingellino che è l'imperfetta versione di qualcosa di perfetto l'Osmo Pocket Mobile uno dei gadget che ho amato di più ve l'ho detto non è un gadget perfetto ma DJI azienda che amo follemente proprio per un sacco di ragioni diverse ha fatto con questo oggettino qua una delle più grandi rivoluzioni mai fatte almeno per quello che mi riguarda perché questo oggetto che è discreto ecco dà la possibilità di poter fare tante cose non solo senza essere visto ma anche senza disturbare l'Osmo Pocket Mobile quindi è un oggetto che non ho mai recensito sul canale non ve ne ho mai direttamente parlato ma è uno strumento che per me è veramente irrinunciabile bene ragazzi io direi che anche per questo video è decisamente tutto ricordatevi che sotto qua in descrizione trovate il link di tutti i prodotti di cui abbiamo parlato siano essi fisici, software o quant'altro più tutti i codici di sconto che ho menzionato durante il video io vi faccio gli auguri per queste feste sperando che non mangerete troppo anche se credo che questo sia onestamente un augurio impossibile ci faremo gli auguri per la fine anno direttamente su Instagram quindi non dimenticatevi di seguirmi qua e soprattutto non dimenticate di farmi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate dei prodotti di cui abbiamo parlato ma anche se c'è qualche prodotto che non ho menzionato ma che voi avete ritenuto totalmente indispensabile per questo 2019 oppure anche solo per farci gli auguri bene quindi direi che anche per oggi è tutto noi come diceva qualcuno ci vediamo quando ci vediamo al prossimo video ciao a come forse qualcuno di voi avrà notato io me ne sono accorto ora che sto montando il video non ho detto qual è per me il miglior device fra quelli che ho nominato e qual è invece il peggiore dell'anno il migliore è per me assolutamente lui l'Osmo Pocket Mobile DJI con questo oggettino ha fatto veramente un grandissimo lavoro non è perfetto ve l'ho già detto non importa che lo sia onestamente grazie a questo prodotto non solo ho avuto modo di creare molti più contenuti di quelli che avrei fatto non avendolo ma soprattutto mi sono portato a casa delle memorie personali dai miei viaggi in giro per il mondo e questa cosa è assolutamente impagabile peggiore invece guarda caso è sempre di DJI ed è questo piccolo aggeggino qui targato DJI che è sul fondo del mio Osmo Pocket Mobile altro non è che l'adattatore per il microfono esterno come vedete una volta che è stato connesso l'Osmo Pocket è impossibile da appoggiare su qualsiasi superficie e anche tutte le custodie che sono in mio possesso diventano totalmente inutilizzabili dovrei comprare qualcosa di specifico nonostante questa cosa è veramente messa in una posizione scomoda e costa anche un sacco di soldi perché se non sbaglio quell'originale costa poco più di 40 euro è una cifra esagerata per una cosa che poteva essere decisamente fatta meglio e questo dimostra che anche pur avendo buone intenzioni e grandi capacità alle volte si possono fare le cacciate ok? ebbene io direi che è tutto e noi ci vediamo nel prossimo video ciao